Entro la fine del 2016 Bassano perderà anche le cause civili. I 975 procedimenti pendenti finiranno infatti nei meandri del Tribunale di Vicenza. Tutto secondo programma, conferma l'ex presidente degli avvocati bassanesi Francesco Savio. Si sapeva che prima o poi sarebbe intervenuto un provvedimento che avrebbe chiuso questo utilizzo di questi locali. A far discutere ancora una volta però sono le ragioni alla base di questa decisione. A giudizio dell'attuale presidente del Tribunale Alberto Rizzo, il trasferimento a Vicenza infatti permetterebbe di risparmiare utenze e affitti bassanesi. Una questione sulla quale Savio ha qualcosa da obiettare, visto che il Ministero continuerà comunque a pagare affitti e utenze dei palazzi Antoni Bon e Cerato, ben oltre il 31 dicembre prossimo. Cerato lo paghiamo già, pur non essendoci nulla dentro. Antoni Bon lo continueremo a pagare perché c'è giudice di pace finché ce lo lasciano dentro. Per cui i costi saranno sempre quelli. Abbiamo in meno per i cittadini un servizio in città che riguarda tutti i casi in cui un cittadino deve andare in udienza o deve andare a testimoniare in un'udienza di cause bassanesi. Un servizio in meno e costi maggiori perché dovranno andare a Vicenza. Ma è logico perché a Vicenza bisogna pur trovare un posto dove metterli. Qui a Bassano l'affitto viene pagato, il riscaldamento viene pagato, per cui i costi resteranno uguali, solo che le udienze si traranno a Vicenza con la gioia dei cittadini bassanesi. Per risolvere almeno in parte il problema, il Ministero promette l'apertura in città dello sportello di prossimità, uno sportello virtuale in cui le udienze potranno essere svolte anche in videoconferenza. Non si sa cosa sia, ne parlano sempre ma concretamente non si vede nessuna proposta neanche, si parla di collegamenti telematici, quindi finché non lo vedo non ci credo. Ma quanto accadrà dunque nei prossimi mesi? Potrà compromettere il sogno del Tribunale della Pedemontana? La strada del Tribunale della Pedemontana, che pur è in un momento di impasse, è diversa perché è una proposta per migliorare il servizio giustizia, non di Vicenza del Veneto. E quindi è una cosa completamente diversa. Poi che ci arrivi non meno a capirla a Roma, boh, non lo so.